Il questore della provincia di Crotone, dottor Massimo Gambino, ha dato il benvenuto al dottor Salvatore Montemagno, vicequestore della Polizia di Stato, che dal 1 settembre ha assunto la direzione della divisione anticrimine. Con l'arrivo del predetto dirigente, in sostituzione del dottor Domenico Gentile andato in quiescenza, si arricchisce ulteriormente la compagine di funzionari presso la questura di Crotone. Ciò nello spirito di implementazione generale prevista dal Dipartimento della Polizia di Stato, che come noto sempre negli ultimi due anni ha contribuito ad un incremento notevole di personale. Il dottor Montemagno, arruolato nel 2000, ha prestato servizio dal 2001 al 2009 presso la questura di Agrigento, ricoprendo gli incarichi di dirigente dell'UPGSP dal 2001 al 2002, funzionario addetto della squadra mobile dal 2002 al 2007 e dirigente della squadra mobile dal 2007 al 2009. Nel corso della permanenza nella questura della città dei Templi, il funzionario si è occupato principalmente di indagini atte al contrasto dei fenomeni della criminalità organizzata e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dal 2009 al 31 agosto del 2021 ha prestato servizio presso la squadra mobile della questura di Catania, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della sezione criminalità organizzata e vice dirigente. Durante la sua permanenza in quell'ufficio ha ricoperto il ruolo di dirigente della sezione omicidi e di quella dei reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.